Grazie. 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 Allora, riprendo, sapendo che sono come parole perse nel vento, come in Blood Runner, quindi purtroppo chissà su Facebook che non ha sentito questo riassunto che ho provato a fare nel modo migliore possibile per quante sono le mie capacità di questa mattina. Riassumo brevemente, insomma, il senso della mattinata, dell'intervento introduttivo di Cornelli e il De Branda sulla situazione della sinistra, dell'intervento di Morea che centrava alla questione della pace come attualità della battaglia delle idee, di interventi di molti che si sono confrontati sia teoricamente che con l'esperienza pratica su questo terreno. Cioè il rapporto che c'è tra la pace e l'egemonia capitalista, citavo l'intervento di Piero Saldini in ultimo, ma prima di Alfonso Gianni, di Franco Russo, molto critico sulla proiezione politica di questa battaglia della pace, di Paolo Cacciari che innervava la questione della battaglia sulla pace con questioni fondamentali come l'intersozionalismo, visto dal punto di vista dell'ambientalismo, della catastrofe, cioè una categoria pregnante insomma. E da ultimo anche Maurizio Acerbo che ci ha sollevato il tema non da poco, insomma, di ragionare per i milioni e non per le unità, insomma che sarebbe poi la ragione di esistere di quello che è stato chiamato un tempo il movimento operaio, lo marxismo stesso. Quindi non vado oltre a ripercorrere questo, abbiamo avuto anche temi di approfondimento più ravvicinati, su cui magari dirò qualcosa anch'io dopo, ad esempio sull'orientamento del Consiglio Europeo sulla guerra, eccetera, eccetera, riprendiamo e riprendiamo adesso con l'intervento di Riccardo Petrella, che è un nostro compagno di viaggio storico da sempre e a cui do la parola e poi Paolo Ferrero. Riccardo sei in grado? Sì, sì, mi sentite? Mi sentite? Si sente lontano, adesso vediamo se riusciamo ad aggiustare, forse ti devi avvicinare, devi alzare il microfono tempo. Sì, sì, eh no, ho guardato, ho verificato tutto. No, non c'è il tuo volume Riccardo. Non c'è? Eh oh, eh io l'ho guardato, ho tolto tutto. Sei spento tu. È tutto in ordine. Il testo del volume va bene. Mi dispiace, non mi sentite? Non so se Roberto Rosso ci sente, se può fare una prova a parlare. Che magari ci abbiamo delle impostazioni audio. Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo perfettamente. Quindi. Ok. Quindi il problema è di Riccardo. Riccardo, non hai acceso il il tuo volume? Beh, è acceso. Sì, va bene, allora lascia perdere. Le cuffie non funzionano probabilmente, Riccardo. No, va bene, la vediamo. Riccardo. Riccardo, facciamo una cosa. Eh, mi telefoni, per favore, e ti mettiamo in viva voce con il telefono. Mi senti? Ti chiamo io su WhatsApp. Riccardo, ti sto chiamando per WhatsApp, per cortesia. Prendi il telefonino. no, ti chiamo io. Si sta chiamando adesso Morea perché io probabilmente non non ho campo. Pronto? Ti chiamo io. Pronto? Sta chiamando lui. Pronto? Pronto? Attaccati, sta chiamando Morea. Per favore, attacca. Attaccati, chiamiamo noi. Riccardo qui. Ecco, 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 ti abbiamo preso, pronto? Parla, ti parla attraverso il telefono. Lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere. Parla. Pronto? Pronto? Sì, vai. puoi andare si sente lascia perdere lasciate perdere lasciate perdere lasciate perdere basta basta lasciate perdere Riccardo sto provando a richiamarti per favore leva le cuffie ah perché io ti sento mi senti? mi senti? no no ecco parla si parla si ti sentiamo parla allora se ti chiedo scusa ma mi ero facciato di nuovo mi dispiace buon pomeriggio ad ogni modo scusatemi di avermi fatto perdere il tempo quindi sarò ancora più breve di prima ma io vorrei insistere sul fatto cosa dobbiamo fare per essere efficaci perché in fondo il nostro problema la nostra crisi in quanto formazione di sinistra è a livello mondiale questa crisi è dappertutto che la sinistra è in crisi e quindi c'è un problema di inadeguazione della parte nostra sia a livello del linguaggio sia a livello del metodo di azione sia a livello delle proposizioni che tutto sommato ci rende efficace praticamente siamo un pochino spallati e anche delusi di non incidere affatto sulla corso dell'elettorio quindi io direi che forse la risposta è semplice forse mi sbaglio non lo so è che abbiamo mostrato un'incapacità di mantenere la nostra autonomia narrativa probabilmente mi ripeto perché sono anni che penso queste cose però vorrei darvi due esempi della nostra perdita di capacità di autonomia narrativa il primo riguarda il concetto di transizione i dominanti sono riusciti a farci accettare l'idea che la soluzione della crisi mondiale della vita che loro hanno provocato tutti noi attraverso il nostro modo di vita sia un problema di gestione di un modo di partenza verso un modo di arrivo affermando che noi conosciamo benissimo cos'è il modo di partenza come sarebbe il modo di arrivo cioè dire sappiamo da dove partiamo e sappiamo dove dobbiamo arrivare e in effetti nell'ambito di questa strategia che è la transizione l'hanno ridotto tutto al problema dell'energia e a livello dell'energia hanno ridotto la strategia unicamente la strategia d'adaptazione al processo di transizione per dire passare dai fossili ai fossili dai fossili ai non fossili e hanno abbandonato le altre strategie possibili non parlo della strategia dell'alternativa perché sono incapaci di pensarlo ma addirittura la strategia della mitigazione se guardiamo gli investimenti le strategie della transizione sono tutte centrate sull'aumento della capacità di adattazione della nostra società al cambiamento imposto dal sistema e quindi dobbiamo adattarci e l'esempio più potente di questa prepotenza dominanza della strategia dell'adattazione è appunto questo ingolfamento terribile e quasi sacrale dell'intelligenza artificiale per cui tutti quanti noi siamo convinti che oramai il problema è adattarsi a non perdere l'autobus dell'intelligenza artificiale e il secondo elemento di perdita di autonomia narrativa è quello relativo al concetto di governance questo governance che oramai è da 30 anni anche la sinistra non fa altro che parlare di governance di governance e governance è per appunto una forte e potente imposizione della narrazione dominante per confermare che il capitale cioè dire la finanza attuale privata deve essere nell'ordine delle cose in tutti i campi e io sono sorpresissimo di vedere che nessuna forza politica organizzata dalla sinistra anche quella radicale non ha reagito al testo approvato dalla top 15 biodiversità nella quale gli stati tutti hanno accettato il principio dell'obbligo da parte di ogni istituzione pubblica di fare una valutazione socio-economica dell'impatto delle loro politiche di modo che il sistema finanziario giudicherà la pertinanza delle azioni dei poteri pubblici nel senso di dire sì quello che voi state facendo è una buona governanza perché il criterio determinante della valutazione di ciò che è ben fatto efficace efficiente che consente di avanzare nell'innovazione eccetera eccetera è il criterio finanziario io sono sorpreso di non ho letto mai tanti articoli ma negli articoli non sono stati fatti sul problema della biodiversità della 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 coppia la sinistra non esiste in questo non ha fatto sapere qual è la sua opinione allora che fare mi sembra che qui sì la pace è vero però io credo che il problema al monte della pace è il problema della vita cioè dire i dominanti sono riusciti a imporre il ricetto dell'uguaglianza di tutte le forme di vita rispetto alla vita e al diritto della vita e alla vita quindi da qui l'eliminazione del concetto di beni comuni essenziali eccetera ridotto semplicemente a forme di organizzazione delle risorse di utilizzo delle risorse in comune questo è il bene comune oggi dominate che è una falsificazione mistificazione terribile poi hanno eliminato al di là quello dell'uguaglianza il concetto del principio dell'uguaglianza della vita e il principio dell'universalità della vita e per questo oggi tutti quanti noi stiamo accettando il fatto di dire non ci sia più la de-globalizzazione che oramai la frattomazione del mondo significa che è fallita la globalizzazione che è vera è fallita la globalizzazione capitalistica di mercato ma la globalizzazione in quanto tale anzi con l'intelligenza artificiale e con la supremazia totale universale integrale della finanza siamo in una espansione terribile della globalizzazione del sistema capitalista e quindi io direi che prima della pace bisogna ritrovare un'autonomia narrativa sul problema della vita e per questo io direi che dobbiamo ricominciare a ridiscutere sull'immaginario della vita e quindi sul grossissimo problema della giustizia e mi permetterò alla riunione di Marsiglia di aprile di tentare di proporre un progetto da parte dell'Agora che si chiama rendere giustizia agli abitanti della terra sperando che altre associazioni presenti possano essere interessate a lavorare insieme vi ringrazio per l'attenzione vi dispiace averli fatto perdere qualche minuto grazie grazie riccardo un abbraccio da tutti i compagni ti salutiamo ora Paolo Ferrero che tra le altre cose dirige anche la rivista sulla testa Paolo ci sei? ciao oh ciao Paolo ecco mi sentite? sì sì benissimo sono una condizione un po' precaria perché sono ad Aosta dove stiamo raccogliendo le firme per la lista di interettività e quindi sono per la strada diciamo mi sgancio un attimo dal banchetto e intanto grazie a Transform per questo invito e per questa occasione di riflessione io volevo sostanzialmente segnalare una questione che a me pare si stia aprendo in modo molto forte perché noi siamo in una fase drammatica di guerra in Donbass di attentati terroristici come quello di ieri sera di genocidi Israele nei confronti del popolo palestinese e in una situazione di grande escalation dal punto di vista del rischio di guerra questa stessa richiesta di Biden di non solo sequestrare come è già accaduto ma utilizzare cioè rubare 300 miliardi di dollari della banca dei titoli di Stato delle banca di Astor diciamo della banca pubblica russa che sono oggi in Europa è un altro elemento di un escalation militare economica finanziaria e quant'altro e quindi io penso che appunto la parola d'ordine della pace del cessato del fuoco del dialogo della trattativa sia assolutamente fondamentale oggi e costituisca l'elemento di discrimine politico e politico culturale su cui muoversi detto questo io volevo intervenire su un punto su cui secondo me non stiamo ancora raffettendo a sufficienza è che questa situazione di guerra non è una situazione di guerra generica è una situazione di guerra specifica e a mio parere la sua specificità è data da questo che gli Stati Uniti d'America che hanno vissuto in una posizione di relativo privilegio in questi ultimi trent'anni con un accesso alle risorse e con un esercizio di potere nel mondo molto rilevante stanno perdendo questa posizione sul piano economico tecnologico finanziario oramai e la modalità con cui gli Stati Uniti pensano l'elite degli Stati Uniti perché non bisogna scambiare mai l'elite col popolo le elite statunitensi stanno cercando di mantenere una posizione di privilegio di dominio chiamatela come volete e attraverso la guerra pensano su quel terreno di essere ancora egemoni di avere ancora un esercizio molto forte della potenza e a questa che è una impostazione statunitense le classi dirigenti o dominanti chiamatele come volete dell'Europa non sono in grado di opporre resistenza nonostante questa logica di guerra non sia per nulla conveniente all'Europa all'Unione Europea ma anzi sia devastante basti pensare la rottura con la Russia che cosa sta producendo sull'economia tedesca e a cascata su quella italiana e in generale sul declino dell'Europa e quindi abbiamo una guerra che non è una guerra generica uno stato di guerra una pulsione di guerra generica ma una situazione in cui detta brutalmente se ci fosse la pace per i prossimi 50 anni la Cina diventerebbe number one e quindi avrebbe tutto da guadagnarci la Russia avrebbe tutte le materie prime e tutto il resto che ci ha da sviluppare e quindi una condizione di relativa positività per lo sviluppo e invece gli Stati Uniti hanno da perderci in questo fatto che hanno da perderci con la pace perché finirebbero numero due probabilmente nel mondo in declino produce la guerra allora secondo me noi dobbiamo focalizzarci su questo perché perché questa questa tendenza alla guerra da parte degli Stati Uniti produce e sta producendo secondo me in queste settimane in questi mesi una costruzione ideologica una costruzione narrata una costruzione identitaria dell'Occidente che è devastante e qua mi leggo una cosa che ho sentito di Petrella alla fine quando parlava appunto dell'immaginario perché noi siamo dentro una produzione artificiale dell'immaginario che si basa sostanzialmente sulla seguente narrazione siamo aggrediti che sia il 24 di febbraio sia l'8 di ottobre ma siamo aggrediti l'Occidente è aggredito la nostra civiltà giudaico-cristiana è aggredita la democrazia è aggredita e quindi noi ci dobbiamo difendere quando ci si difende si può anche esagerare si può anche eccedere non importa dobbiamo difendere tutti coloro che stanno dalla nostra parte qualsiasi cosa faccia e di quelli che stanno dalla nostra parte sicuramente Israele è la sentinella avanzata nel mondo della barbarie non importa che Israele pratichi l'apartheid è comunque per antonomasia una demografia dei nostri e anzi Israele in qualche modo rappresenta il mito fondatore della società giudaico-cristiana che noi rappresentiamo e che dobbiamo difendere in una nuova crociata contro il resto del mondo a me questa sembra la narrazione è una narrazione di guerra totale di costruzione di identità per esclusione completa e che vede che abbiamo perso un attimo scusate ogni tanto arriva un attimo che vede al centro non solo l'occidente in quanto costruzione identitaria ma l'occidente che si costituisce in quanto contrapposto al resto del mondo è un rovesciamento totale della narrazione che c'era nella fase iniziale della globalizzazione che invece diciamo così alludeva un'idea di umanità qui viene messa in discussione l'idea di umanità perché si divide tra noi e loro in una costruzione mitologica pazzesca di un nazionalismo che non è più un nazionalismo dello stato nazionale ma è il nazionalismo occidentale una sorta di ideologia neocoloniale che giustifica il fatto che facciamo la guerra ecco se questa cosa che ho detto io ha qualche attinenza con la realtà diciamo il puro pensiero un po' matto di una persona io penso che il nodo della sinistra in Europa si gioca esattamente su questo perché nel momento in cui l'Occidente e l'Europa in forma subalterna al suo interno si definiscono come un'identità escludente degli altri e aggressiva nei confronti del resto del mondo di tipo neocoloniale non so come definirlo altrimenti cioè che noi abbiamo dei valori superiori noi abbiamo una civiltà superiore e quindi la dobbiamo difendere dai barbari che sono alle porte a tutte le porte a tutte le finestre se questa è la cosa che viene fuori è evidente che il problema della sinistra in Europa si pone questo cioè si ridefinisce a partire da come si colloca rispetto a questa contraddizione come nella prima guerra mondiale la sinistra si definì sulla base del rapporto verso la guerra che era intraeuropea oggi si definisce secondo me sulla base di come ci rapportiamo a questo fatto che l'occidente ha dichiarato guerra al resto del mondo e secondo me su questo c'è il punto della costruzione della sinistra che non può essere subalterna alla razione occidentale come invece talvolta nella sinistra moderata talvolta capita anche nella sinistra di alternativa che c'è una totale subalternità ma c'è un modo più subdolo in cui si può essere subalterna la razione occidentale ed è quello di accettare lo schema che se non sei con noi sei contro di noi cioè se non sei occidentale in quel modo lì immediatamente sei putiniano immediatamente sei filo terrorista un traditore nemico perché questa idea di occidente che emerge non è un'idea di occidente pluralista ma è un'idea monolitica organica chiusa di occidente in cui c'è solo un modo di essere occidentale che è di quello di essere coloniali contro il resto del mondo in guerra contro il resto del mondo allora a me pare che questo è il problema che i cattivi siamo noi e noi siamo dentro il ventre della bestia e l'essere sinistra dentro un mondo occidentale che si ridefinisce in forma neocoloniale ci deve chiamare ad essere attenti a non essere la sinistra di sua maestà cioè la sinistra della narrazione egemonica diciamo delle classi dominanti e dall'altra ci deve evitare la scorciatoia di dire allora siamo alleati con gli altri no perché noi siamo contro la guerra non siamo con Putin contro l'occidente siamo contro la guerra che è un'altra cosa e questa a me sembra la difficoltà politico politico culturale che ha oggi la sinistra in Europa e non solo in Europa anche da noi perché mentre siamo stati capaci di costruire una posizione che stesse all'onore del mondo dal punto di vista della sinistra di alternativa contro il liberismo e una narrazione contro il liberismo stiamo molto più in difficoltà a costruire una narrazione lineare convincente rotonda non so come definirla altrimenti rispetto a questa cosa della guerra ma questo io penso che sia il nodo fondamentale di come riusciamo ad essere contro la narrazione delle elite delle classi dominanti occidentali senza essere subalterni alla narrazione delle classi dominanti occidentali e invece costruendo appunto la prospettiva dell'alternativa a quelli che da centrodestra o da centrosinistra non fanno altri che proporre quella narrazione delle classi dominanti questo vi volevo dire l'ho fatto grazie Paolo grazie e buon grazie buon lavoro grazie molto di esserti collegato anche da quella situazione noi abbiamo undici interventi quindi cerchiamo di stare per le cinque Franco Ferrari e poi Nicoletta Pirotti me lo sono scritto ma non ho verificato il tempo spero di stare anchiuso il termine narrazione che adesso Paolo Perero ha richiamato diverse volte anche se fosse in modo un po' diverso io ho cercato un po' di articoli con le mie possibilità evidentemente di porre questa questione credo che oggi abbiamo molti interventi si sono posti il problema la sinistra la crisi radicale della sinistra radicale non solo in Europa ma anche a livello mondiale per certi versi credo che ci sia fra le tante cose ovviamente che devono essere fatte ci sia un problema di provare andare a vedere a ridefinire quelli che sono alcuni fondamenti ora come sappiamo c'è stata una fase so parto da lontano ma vado veloce c'è stata una fase in cui una corrente ideologica soprattutto francese ha messo in discussione l'esistenza stessa delle grandi narrazioni detto in termini più moderni sarebbe lo spiegone di tutti gli spiegoni le grandi narrazioni ora però se noi facciamo un bilancio a un po' di decenni di distanza quello che vediamo è che in realtà siamo pieni di grandi narrazioni che riescono a imporsi nel dibattito di avere consenso abbiamo visto il fondamentalismo religioso non solo quello islamista perché c'è quello israeliano c'è quello hindu c'è quello americano degli evangelici in realtà l'unica vera e grande narrazione che è entrata in crisi e che oggi manca è probabilmente la nostra quella del diciamo del movimento operaio socialista inteso nella sua più larga accezione e io credo che qui ci sia appunto un problema e solo che questa grande narrazione a mio parere deve essere definita da alcune cose intanzitutto un contenuto allora a mio parere una grande narrazione quella che noi dovremmo essere grati di esprimere deve avere alcune caratteristiche intanto rispondere a tre domande fondamentali che cosa con chi e come e e poi su questo ci torno e ovviamente non può essere come dire una costruzione accademica anche se ovviamente ha bisogno di teoria e quindi anche di supporto di analisi eccetera ma deve essere qualcosa che riesce a connettersi ed arrivare alle persone comuni faccio per essere un po' più concreto riprendo alcune tesi di Bernie Sanders noi abbiamo fatto la recensione fatto Alessandro ha scassillato una bella recensione sul sito sull'ultimo libro di Sanders abbiamo fatto anche un colloquio un dialogo con Bertinotti su questo ora a me sembra che Bernie Sanders dia esattamente in modo comprensibile risposta a tutte e tre le domande il che cosa lui indica il socialismo e lo nomina e quindi ritiene che vada nominato il che cosa il fine è un'idea di socialismo che può essere messa in discussione diciamo è molto una idealizzazione del modello scandinavo della socialdemocrazia del vecchio conflitto capitale lavoro che l'Istituto Uniti non ha mai trovato radicamento però lì c'è un'indicazione il conchi indica in modo mi sembra molto chiaro la classe lavoratrice dove la classe lavoratrice è intesa nella sua definizione più vasta non diciamo della classe operaia della grande industria quella che nel novecento ha costituito il cuore del movimento operaio ma che in un qualche modo ritorna ad una originaria definizione marziana per cui il proletariato contro il capitale si definiva sono tutti coloro che per vivere devono vendere la propria forza lavoro e a prescindere poi se questo riente nel genere intelletto cioè nel lavoro diciamo che produce bene materiali o bene materiale e poi dà una risposta anche al come cioè a quale strategia politica anche qui si può discutere perché lui indica sostanzialmente una trasformazione del partito democratico americano che è un partito in cui il termine partito indica una realtà diversa da quella dei partiti europei il partito democratico americano attraverso la costruzione di un movimento dal basso che ne modifichi le caratteristiche e i connotati ora questo è un esempio a mio parere di risposta alle tre domande che costituiscono una possibile grande narrazione comprensibili però dal nostro punto di vista credo anche abbastanza discutibile discusse ad esempio nel dibattito della sinistra americana qualcuno ha contestato il fatto dicendo ma se noi siamo d'accordo che c'è da fare la sanità pubblica che c'è da fare il salario minimo c'è da fare tutte queste cose perché dobbiamo definire il socialismo che sostanzialmente serve solo a spaventare i nostri possibili sostenitori altri correnti le richiamo perché questi sono elementi che poi si va a vedere fanno parte di un dibattito culturale politico culturale che c'è che è verificabile ad esempio nella corrente postopereista che ha influenza in Italia c'è stata una contrapposizione c'è una contrapposizione fra l'idea del socialismo e l'idea del comunismo perché il socialismo è il principio che si basa sul riconoscimento del lavoro come elemento fondamentale di identità e di partecipazione alla società ecco io credo che queste questioni debbano far parte di un dibattito molto più esplicito molto più chiaro molto più approfondito e poi tradursi se ci sono le condizioni anche in capacità nella costruzione di quello che Gramsci chiamava l'idea e forza però c'è un altro passaggio perché evidentemente una continua a chiamare a utilizzare questa definizione della grande narrazione oltre ad un contenuto deve avere come dire deve definire i modi della sua costituzione per non essere semplicemente una costruzione arbitraria perché ovviamente ognuno poi potrebbe avere la sua e non è attraverso il solo dibattito è attraverso anche la pratica politica che è possibile affermarne una rispetto o un insieme rispetto ad altre e qui secondo me c'è un altro passaggio richiamo una citazione notissima di Marx perché mi serve poi ad aggiungere questo elemento nel 18 Brumaier Marx scrive gli uomini oggi diremmo gli uomini e le donne evidentemente fanno la propria storia ma non la fanno in modo arbitrario in circostanze scelte da loro stessi bensì nelle circostanze che essi trovano immediatamente davanti a sé determinate dai fatti e dalla tradizione dove io per fatti intenderei come dire la struttura socio-economica e la tradizione nell'insieme delle ideologie del senso comune dell'immaginario ora questa connessione fra volontà soggettiva e condizioni oggettive secondo me è capacità di cogliere nelle diverse fasi storiche come entrano in relazione l'una con le altre è un elemento che mi parere del tutto irrinunciabile rispetto invece a teorie che pure si riscontrano nel dibattito della sinistra non solo in Italia ma anche a volte neanche nel dibattito ma nella realizzazione pratica delle scelte politiche ci sono a mio parere diciamo due strade adesso detta molto grossolamente alternative una è quella diciamo dell'ideale regolativo cioè un insieme un insieme di valori di principi anche morali rispetto ai quali ci si rifà e che guidano l'azione quotidiana in un contesto che è quello che poi si evolve anche indipendentemente e questo approccio a mio parere determina molto spesso una critica di tipo morale al capitalismo cioè il capitalismo è cattivo produce tutti gli effetti negativi che sappiamo e quindi dobbiamo sostituirlo che però rischia di essere alla fine è un elemento di buona volontà ma non di costruzione di una reale alternativa l'altra strada è un po' adesso dico così è quella della volontà di potenza cioè dell'idea che basti le condizioni oggettive sono sempre date è la volontà soggettiva che va costruita ecco io credo che queste due strade che pure sono verificabili cioè sono esistenti nel dibattito se si scava un po' più a fondo sono strade che non sono sufficientemente produttive per alcuni effetti ci hanno messo in un piccolo cieco quindi necessità della grande narrazione individuazione dei contenuti della grande narrazione costruzione del modo di essere di come si collega volontà soggettiva condizioni oggettive sono elementi fondamentali dopodiché e finisco una grande narrazione non è solo una narrazione cioè non può essere intesa perché anche questo è un elemento che c'è cito i teorici del populismo di sinistra e anche tutto il filone post strutturalista eccetera dice la realtà è fatta di parole di narrazioni discorsi e quindi si tratta di contrapporre un discorso a un altro discorso in cui nel caso dei populisti di sinistra l'elemento determinante è l'individuazione del nemico cioè il popolo che è soggetto dell'attività dell'azione politica si riconosce dal fatto di essere l'antifinisco è perché c'è un antipopolo che puoi essere popolo è una casta o qualsiasi cosa si può individuare ecco e chiudo a me pare che questi elementi siano parte di un dibattito che altrimenti rischia di restare troppo schiacciato sui elementi che pure vanno discorsi ovviamente il contingente l'attualità politica e gli eventi volta per volta e secondo me però senza la capacità di ricostruire questa visione difficilmente usciamo dalla nostra crisi grazie grazie franco nicoletta pirotta che fa questa intersezione femminista che sta su tutti noi abbiamo otto nove interventi se siamo in sette ce la facciamo faccio di tutto per essere breve anche perché siamo cominciamo a essere un po' stanchi stanchi ma io negli interventi di questa mattina ho apprezzato ovviamente il continuo richiamo nel quadro della ricostruzione di un pensiero di alternativa il continuo richiamo a un femminismo intersezionale un femminismo intersezionale che in effetti è il portato di quello che è quella che viene definita la quarta ondata del movimento femminista internazionale rappresentato in Italia e non solo dal movimento di non una di meno che in effetti ha posto in maniera anche concreta con delle pratiche concrete la questione di un femminismo intersezionale un femminismo intersezionale che significa riconoscere sul piano analitico e pratico l'intreccio fra le diverse forme di sfruttamento di genere la classe la razza intese come forme storiche che si declinano e si intersecano nei diversi contesti sociali definendo le relazioni di quei contesti ma definendo anche le singole soggettività se questa intersezione non viene colta difficilmente si riesce a comprendere la complessità del reale ora siccome è continuo il richiamo a questo femminismo intersezionale ci è sembrato utile all'interno delle pubblicazioni di transform che appunto in qualche modo approfondiscono e danno strumenti anche per comprendere meglio il reale ci è sembrato opportuno aprire una rubrica specifica che si chiama appunto intersezioni femministe e che ha iniziato il suo lavoro nel settembre scorso perché ci sembrava utile approfondire perché dire femminismo intersezionale e dire che ci sono le forme storiche della razza del genere e della classe così ci sembrava abbastanza superficiale cioè che non consentisse di capire davvero il portato di questo pensiero femminista e allora abbiamo pensato che forse la cosa migliore non era tanto quella di scrivere noi qualcosa sul femminismo intersezionale ma siccome il femminismo intersezionale non nasce con non una di meno ma nasce molto prima in particolare nel femminismo nero in particolare con la Crenshaw che lo pose come uno degli elementi fondanti ci è sembrato il caso di cercare dei testi di fare un lavoro di ricerca cioè cercare dei testi specifici e metterli a disposizione ovviamente con un commento e una presentazione che li inquadrasse dentro il contesto storico nel quale sono nati e dentro le pratiche anche che essi rappresentano e nell'affrontare questo approfondimento abbiamo tenuto conto di almeno tre nodi uno la dimensione anticapitalista cioè la cioè lo sfruttamento di classe che è una dimensione spesso rimossa o sottovalutata dentro il movimento femminista anche dentro il movimento femminista di non una di meno che su questa contraddizione un po' un po' scivola via e quindi abbiamo pensato che invece fosse il caso per dirla con Angela Davis di cioè di affermare che il capitalismo che il femminismo deve portare alla consapevolezza di quel che il capitalismo è e quindi abbiamo messo a disposizione una serie di testi di studi di ricerche a partire da Angela Davis ma non solo che appunto ponessero la questione anticapitalista dentro un pensiero però femminista e non ci siamo fermati a questo perché abbiamo cercato anche di porre dentro questa lettura anticapitalista un passo ancora in più cioè quel femminismo materialista che individua nella rilettura critica di Marx un elemento fondamentale nel definire il femminismo anticapitalista e qui abbiamo per esempio portato alcuni testi di Nancy Friends ma di Lidia Cerillo e anche di altre questo è il primo nodo il secondo nodo è l'importanza del pensiero femminista nero e di quello decoloniale che fra l'altro ultimamente ha subito una come si può dire un'importante evoluzione proprio perché il decolonialismo è diventato un elemento di riflessione importante all'interno anche della sinistra e anche in questo caso abbiamo cercato di spiegare perché il pensiero femminista nero e decoloniale fossero utili nella costruzione di un pensiero di alternativa perché non è sufficiente indicare il dominio maschile come archetipo di tutte le forme di oppressione se non si considera il fatto che non tutte le donne vivono questa oppressione nello stesso modo le donne nere per esempio lo vivono in maniera molto più molto più forte e però anche qui abbiamo cercato di individuare sicuramente l'origine dello sfruttamento razziale sessuale lavorativo definendolo come patriarcato suprematista bianco per usare una terminologia di di comprendere come dentro questa come si può dire approccio si muovono o siano intrecciati anche i rapporti di sfruttamento capitalista il terzo nodo vado via veloce per cui mi scuso se trancio via delle cose che sono più complesse la necessità di contestare l'eterosessualità come destino e norma per pensare ad un lesbismo nel nostro caso ma a un'omosessualità più in genere capace di colpire al cuore il sistema patriarcale ma non solo perché le discussioni sull'identità di genere sulla sessualità così come quelli sui diritti civili hanno dimostrato di avere una dimensione almeno potenzialmente anticapitalista perché minano quei sistemi di potere elaborati e messi alla prova da anni questi quindi i nodi la caratteristica la caratteristica di questo lavoro è quella e quindi della rubrica è quella di definire al contempo la rubrica femminista e transfeminista femminista perché la violenza maschile sulle donne continua e è espressione di un dominio specifico che come scrive Alea Melandri deve il suo radicamento e la sua durata alla colonizzazione del pensiero oltre che dei corpi delle donne il femminismo nella sua intuizione più radicale ha saputo svelare l'interiorizzazione della rappresentazione maschile del mondo da parte delle donne ed è bene quindi che questo svelamento che questa analisi che questa ricerca continui quindi per questo femministi ma al contempo transfeminista perché è utile promuovere uno sguardo transfeminista per riconoscere l'importante contributo dell'attivismo lgbqt plus soprattutto per quanto riguarda la visione transessuale transgender e di messa in discussione delle sessualità come norma per ribadire che oggi usando un termine desueto la lotta di classe non passa solo dalle lotte sindacali per un reddito o per un salario o per la lotta per il reddito di cittadinanza o di autodeterminazione come il movimento femminista preferisce chiamarmi ma si espande anche nella nella sfera della riproduzione sociale che non riguarda solo il lavoro non pagato delle donne ma anche l'immagine di sé quindi di uomini e donne e del proprio ruolo nel mondo la terza caratteristica e vado a concludere è la dimensione politica nel senso che è internazionale nel senso che non vogliamo dare a questo lavoro di ricerca e di approfondimento un sapore accademico o astratto vogliamo cercare abbiamo cercato e vogliamo cercare dei testi e delle autrici che sappiano spiegarci meglio attraverso i loro scritti anche del passato non recenti che sappiano spiegarci meglio quello che sta avvenendo oggi che da una parte vede l'avanzata prepotente di una destra che badate sulle questioni economiche e sociali non fa altro che portare avanti quello che ha portato avanti anche in parte il centro-sinistra nel senso che il governo Meloni è la continuazione sul piano economico e sociale di quello che fu per esempio il governo Draghi ma per mettere bene in evidenza quanto la restaurazione conservatrice delle destre si giochi soprattutto rispolverando il mito della famiglia patriarcale dei legami di sangue e quindi agendo fortemente su quelli che sono le contraddizioni di genere e di razza le donne dentro questo contesto pagheranno un prezzo altissimo in termini di libertà di scelta e di autonomia economica perché si sarà rotto scusate uso questo termine che ormai non sopporto più perché si sarà rotto il famoso tetto di cristallo per alcune fra l'altro consentendo a donne non propriamente simpatiche di venire avanti penso alla Meloni ma anche alla von der Leyen mica soltanto alla Meloni ma i pezzi di vetro che sono caduti cadono sulla testa delle donne tantissime donne che comunque restano e continueranno a restare sotto quindi come dire conviene anche qui non mitizzare troppo questa rottura del tetto di cristallo contemporaneamente soffiano venti di guerra sono già state dette quindi non vado non vado oltre anche perché mi pare che sia stato detto benissimo quindi vado via ricordo soltanto che è stata una donna la von der Leyen appunto a sottolineare che la guerra in Europa non è così non è così impossibile e proprio l'altro ieri il consiglio europeo ha detto che la guerra in Europa non è imminente non che non ci sarà semplicemente che non è imminente quindi i segni sono funesti l'ultimo aspetto e chiudo è che abbiamo voluto con una certa capardia proporre queste intersezioni in un contesto misto nel senso cioè laddove si confrontano e ragionano insieme sia uomini che donne perché consideriamo questa rubrica non un appendice non un'integrazione di quello che è il pensiero alto ma consideriamo questa rubrica una parte essenziale del pensiero che Transform vuole del pensiero collettivo che Transform vuole mettere a disposizione dell'altra e quindi pensiamo che giocare questa rubrica dentro un contesto misto sia un utile strumento per consentire appunto la costruzione di questo pensiero collettivo di alternativa di cui tutti e tutte sentiamo il bisogno grazie grazie Nicoletta eh Patrizia Sentinelli di altramente e poi Roberto Nicolai voglio dire a Nicoletta che ringraziamo moltissimo per il lavoro che fa ma io penso che bisogna fare un momento di presentazione specifico di riflessione specifica sulle tematiche che vengono portate avanti sul sito di Transform ci sono in raccolta tutti i primi testi prodotti Patrizia Sentinelli altramente e poi Roberto Nicolai Gallieni Amato e così via Transform è acceso un ringraziamento sincero lo ripeto ma non solo per avermi invitato e avermi permesso di seguire i lavori fin qui e fino alla fine poi ma voglio dirlo in particolare a Roberto Morea Roberto Musacchio e a tutti gli altri grazie di esserci di esserci come Transform ma lo dico non perché siamo amici diciamo intimi da anni ma perché Transform è un luogo di riflessione e non solo sulla politica italiana sulle politiche italiane ma in un contesto europeo sempre con questo sforzo a mettere al centro la ricerca del contesto europeo e questo ci aiuta un po' a tutti laddove siamo collocati a tenere una bussola di riferimento diceva prima di me Nicoletta per la costruzione di un'alternativa del socialismo si diceva anche poco fa una bussola per capire il contesto se non si capisce il contesto non c'è nemmeno il testo testo e contesto il rinvio il rimando e ha un utilissimo sito lo ricordava ora Nicoletta perché ospita tante cose belle e utili per la precisione per questo modo e mondo della politica e nostro da ultimo ne sono riconoscente perché è stata pubblicata proprio in questi giorni questa lettera scritta questo sfogo questa narrazione di una nostra amica scrittrice che ha aderito all'appello di Giulia Caminito e di unite azione letteraria per sconfiggere la o per gridare contro la violenza alle donne la mia associazione di cui sono presidente da ormai tanti anni da quando non c'è più Graziella che voglio sempre ricordare con amore e con gratitudine si serve di trasforma e copera con trasforma per alcune iniziative magari in modo laterale a volte in modo un po' più diretto nel tempo abbiamo fatto la scuola di democrazia alcuni partecipazioni di alcuni convegni un progetto di arte ti ricordi Roberto abbiamo messo insieme dei disegni di bimbi di bimbe di diverse età e per partecipare ad una piattaforma artistica diciamo che trasforma sosteneva di migranti bambini e con viaggi particolari presentazioni di libri e tante altre cose insomma a me pare che sia davvero questo io vi ringrazio e vi voglio dire solo che io non sono qui perché non sarei nemmeno capace in questo momento di dirvi che cosa dovremmo fare per l'alternativa io mi limito semplicemente a dirvi quello che faccio perché a me sembra che sia necessario anche provare a colmare questo gap tra il dire dovremmo che mi fa sempre venire un po' di bolle devo dire e provare invece a fare anche cose piccole apparentemente di fronte e dentro all'orrore così ben descritto anche degli interventi di oggi di questo nostro tempo noi ci siamo certo mi veniva da dire proprio oggi mentre ascoltavo per aggiungere il nostro grido a tante altri che gridano per il cessate il fuoco non la guerra per riprendere per farli per inventare il modo di fare negoziati come se questo fosse una parola che solo Papa Francesco ha dovuto ricordare il negoziato si fa tra nemici si fa prima si fa prima dopo durante e invece si fa la guerra e si continua a fare la guerra ci si prepara ad una guerra ancora più grande allora io penso che dovremo un po' raccontarci anche quello che facciamo e quindi le pratiche che mettiamo in campo noi ci siamo detti ad altramente da un po' di tempo proviamo ad agire pratiche di sottrazione e di scarto all'ordine capitalistico dominante ordine di sottrazione e di scarto che significa dire no alle pratiche di guerra o belliche dire no al profitto no all'ordine gerarchico proviamo a rimetterci in discussione e questo vale anche per le politiche istituzionali per riportare gentilezza laddove c'è orrore ieri facevo una formazione un colloquio di tutoraggio con i nostri ragazzi del servizio civile e abbiamo proprio discusso per due ore su come si può essere gentili senza essere troppo sciocchi o fintamente gentili come certi nostri amici hanno fatto anche dentro alcune istituzioni gentili vuol dire opporsi e contrastare la guerra con pratiche non violente gentili vuole essere anche essere ribelli e appunto scartare praticare il dono vuol dire non non riconoscere i diritti del mondo del lavoro rifiutarsi ad essere supplenti come associazioni a quello che lo Stato e il pubblico dovrebbe fare o gli antilocali il sistema pubblico nazionale dell'istruzione ad esempio per il campo che noi frequentiamo no significa gentilezza un modo diverso di porre le questioni grandi che ci sono intorno a noi e agire pratiche di contrasto alla povertà noi in particolare quella educativa accompagnando sostenendo in questi passaggi di crescita donne straniere che arrivano in Italia sprovviste della lingua bambini e bambine ragazzi e ragazze adolescenti che come sa bene perché lo ha accennato in un passaggio anche Leonora soffrono tanto il mal di vivere e poi si è adolescenti per lungo tempo accompagnarli a superare non a cancellare la fragilità ma a superare a fare i conti con la fragilità essere gentili vuol dire non mettersi sopra di loro per insegnare cosa fare ma orientarli insieme ascoltare e osservarli allora parto da qui e dirò anche poche cose e concludo perché c'è un certo una certa connessione affettiva sentimentale o comunque politica per esempio tra noi e trasformo anche alcune forme della politica istituzionale o partitica quando voi ad esempio privilegiate giustamente dal vostro punto di vista l'osservazione e la ricerca del profilo o progetto politico noi quello dell'osservazione e della relazione con i soggetti capovolgiamo ma lì c'è una connessione possiamo incontrarci perché non c'è il fare senza pensare e non c'è il pensare senza il fare sono vecchi abbastanza per dire che non si può fare politica se non si fa ricordo che quando ero la segretaria di Roma di rifondazione comunista volevo fare una battaglia nel comitato politico me l'hanno impedita ma sarebbe utile riproporlo che era quella di non poter dare la parola o prendere la parola in un contesto come in un comitato politico se perlomeno mi ero inventata questa cosa durante l'anno sociale ogni anno si rinnova la tessera non si facevano perlomeno tre o quattro azioni pratiche sociali che arrivavano persone assolutamente insensibili al fatto che si è una comunità interdipendente o intersezionale che dicevano bisogna fare questo ma no tu vuoi quest'altro qui no e tu che hai fatto nulla hai sbraitato magari nel circolo contro l'altro nemici anziché essere capaci con la gentilezza anche di dominare o gestire il conflitto che normalmente c'è nei gruppi quindi io penso che bisogna trovare queste modalità per essere capaci di farci riconoscere soggetti del cambiamento e quindi riprovare a tessere insieme una trama per questo io dico che la mia associazione fa politica è un altro modo di far politica va beh è stato ha riportato un pezzo del dibattito quotidiano che ci abbiamo a casa Roberto Nicolai eh sì sì e poi eh Galliani Amato adesso sono due persone eh buonasera ringrazio da Roberto De Roberti quindi e niente eh no eh mi è stato chiesto di qualcosa io non so bene se c'entra qualcosa quello che dirò ma eh ci provo poi valutate voi eh l'archivio Roberto Marini che dirigo eh è stato fondato sei anni fa dallo stesso Marini vissuto in una famiglia democristiana si è ben presto spostato sulle idee di un giovane Marco Pannella presto abbandonato con la costituzione del PSIUP qui si arriva da noi insomma eh nel quale divenne responsabile stampa propaganda un compagno critico verso il fascismo e lo stalinismo disgustato all'invasione sovietica dell'Ungheria e successivamente di Praga che legge studi e riviste e tanto da conservarle fino ai giorni nostri prima della sua scomparsa in un archivio in cui sono presenti materiali che vanno dall'anarchia fino alle riviste come il Borghese o Pd Pecorelli materiale che va da sinistra tanta a destra un po' meno sebbene Marini poi abbia successivamente aderito al PDUP e a Rifondazione Comunista eh con lo scopo questo di confrontare e comparare in un'ottica simile a quella espressa da Mark Bloch che affermava come solo la comparazione rendesse la storia scientifica e questo si può fare ad esempio in un archivio oggi quell'archivio appunto di cui vi parlo contiene tredicimila libri la maggior parte ovviamente di sinistra 1200 testate di riviste del secondo metà del novecento ovviamente di molti della sinistra storica della nuova sinistra ma anche ma anche riviste vanno dalla musica al cinema alle tradizioni popolari quotidiani di varia tendenza manifesti volantini in tempo fa pochi giorni fa ci hanno donato anche manifesti della DC del 48 eh e vanno anche gli altri 8500 LP 3500 CD 1000 audiocassette 5000 videocassette di cui 4000 registrate e molto molto altro fino alle bobine gelose con i giornali parlati a proposito di memoria eh del 68 ehm e poi 50.000 pagine di miscellane circa 500 contenuti che stiamo rimettendo insieme tutto questo per dire cosa gli elementi che contraddistinguono questa giornata sono la battaglia contro la guerra e la pace due obiettivi che tutti noi riteniamo di poter raggiungere anche attraverso la cultura la conoscenza e il confronto con forme pacifiche attraverso la quale inibire conflitti e le violenze e tra le forme pacifiche non violente non possiamo non includere la memoria sebbene personalmente la ritenga uno strumento debole e fin troppo modificabile se non affiancato e sostenuto dallo studio e dalla ricerca storica una memoria quella di avvenimenti violenti del passato che dovrebbe attraverso lo studio e l'analisi garantirne la divulgazione così da evitarne la riproposizione in realtà questo auspicio non sempre si realizza perché la presa di coscienza storica o la memoria sono subordinate allo stato di cose presenti in una società capitalistica la ricerca storica e la memoria si piegano nella direzione che impone quel potere come la scienza prendendo in presto Raniero Panzieri anche la storia non è neutrale ma si esprime e viene divulgata sulla base di chi la controlla dei gruppi di poteri economici e di informazione che vigono in quel particolare periodo storico i giorni della memoria o ancora peggio del ricordo hanno dimostrato come la storia sia modificabile inefficace e innocua quando l'interesse economico e politico miri a raggiungere i propri obiettivi gli insegnamenti che la storia della Shoah e dei massacri perpetrati dai nazisti ma anche dagli italiani fascisti in Jugoslavia e altre ex colonie si sono dimostrati inutili quando due elementi si sono incrociati appunto la Shoah e il genocidio dei palestinesi quest'ultimo perpetrato dagli israeliani eredi dei sopravvissuti alla strage di 6 milioni di ebrei massacrati dai nazisti ciò ha generato un cortocircuito tale che il genocidio verso gli ebrei non ha potuto fungere da deterrente del genocidio verso i palestinesi è qui che la storia si è piegata di fronte all'interesse dell'economia e della geopolitica rendendo impossibile pronunciare quel mai più più volte invocato per altri massacri nei confronti dei palestinesi a ciò si aggiunge da anni il lavoro revisionistico del ruolo degli italiani fascisti quei carnefici di Mussolini come le definisce Erick Gobetti che mai sono stati giudicati dal contribunale nonostante ne fosse stata richiesta l'estradizione da gran parte degli stati occupati della furia fascista anche in questo caso la storia è stata piegata oggi che la Jugoslavia non esiste più per far dimenticare quel milione di morti un milione di morti causati dagli italiani fascisti in varie zone del mondo e per riportare quel sempre eterno italiani brava gente oggi più sostenuto oggi ancora più sostenuto dalla neofascista presidente del consiglio a me pare in qualità di direttore di questo archivio che ha la storia del movimento operaio come elemento centrale che la storia non possa avere la libertà di corrispondere a fatti realmente accaduti quando sono scomodi se non è libera dall'espressione imposta dai poteri economici e da quelli geopolitici perché la storia e il capitalismo non possono che rappresentare un oggettivo ossimeo una volta si diceva la destra e la cultura sono solamente all'antitesi in preparazione in attesa di una reale società socialista che faccia dimenticare i trascorsi autoritarismi dei socialismi reali e che soprattutto permetta la libertà della storia realizzabile solo in una società di libera e classista dobbiamo organizzarci in altro modo una forma può essere quella che si riesca a mettere in rete come già accade oggi con Trasfor i centri di ricerca gli archivi i centri di cultura che abbiano una prospettiva alternativa alla società in cui viviamo una rete che possa ricreare attraverso iniziative comuni e contemporanee in varie città iniziative comuni che so visto che a molti piace un'iniziativa su Berlinguer contemporaneamente in dieci posti in maniera che si sfondi da un punto di vista informativo questa cosa perché è molto particolare e che si ricrei quell'egemonia culturale che ci siamo perduti attraverso forme appunto di collegamento contemporaneo questa è una cosa che più o meno penso e anche dove all'interno di questi luoghi si crea la possibilità come ci dicono a molti a noi quando abbiamo organizzato iniziative abbiamo fatto oltre 65 anni un luogo per parlare un luogo per riflettere volevamo far vedere il film Berlinguer vi voglio bene non l'abbiamo visto perché dopo la presentazione la gente ha cominciato a parlare di Berlinguer dagli anarchici a crazziani senza litigare tra l'altro e quindi questo potrebbe essere un'idea non credo che abbiamo da perdere alcunché neppure le catene perché non l'abbiamo avute fondamentalmente non resta che provarti per davvero grazie molto a Roberto noi siamo d'accordo siccome siamo in due in tre è perfetto quindi sei già come si può dire arruvolato ma in termine militare ho detto prima per l'EFT parla Stefano Calieni l'EFT è una rivista con cui collaboriamo permanentemente con cui abbiamo edito anche diversi libri poi per il federalismo europeo no per l'Europa federale scherzo per l'osservatorio europeo Andrea Amato parlo per l'EFT ma ovviamente parlo anche come esponente di rifondazione comunista e devo dire che l'intervento di Patrizia mi ha sollecitato parecchio rispetto a come potrebbe provare a cercare di funzionare meglio tempo scaduto non puoi era una provocazione voluta chiaramente dunque come rientrando nel tema EFT devo dire che come testata sia come sito che come come testata EFT e trasformano parecchie similitudini lasciano parecchio spazio al al dibattito fra diversi permettono l'incontro fra fra opinioni e fra cervelli oserei dire ognuno poi chiaro con una propria griglia però su alcune tematiche c'è un ci sono dei punti di caduta che sono terribilmente comuni io parto da quello che è il punto a mio avviso principale quello che per cui è stata organizzata questa ottima giornata giornata per quanto riguarda la profondità e la putezza di alcuni interventi ovvero la guerra a me ieri è capitato né per LEFT né per rifondazione questa è un'altra storia di intervistare un generale eh il generale Mini eh il quale rispetto a una domanda sulla guerra sul fatto che quanto si parli di guerra mi ha dato una risposta molto secca e netta il fatto che si parli normalmente di guerra dobbiamo impararlo significa che in guerra ci siamo già eh ma non quella dei giornali o quella dei documenti del Consiglio d'Europa quella che infatti è diventata cultura dominante nonostante le popolazioni soprattutto in Italia e nei paesi mediterranei mostrino contrarietà eh all'utilizzo delle armi e l'invio di armi eccetera è diventare un elemento una sorta di normalità cioè non non sconvolge non fa notizia non non crea nessun tipo di eh allarme neanche culturale non dico soltanto sociale non modifica è considerata come parte del del pieto vivere oserei dire è terribile come contraddizione forse perché non la vediamo ancora nei nostri nei nostri edifici nelle nostre case forse perché ci appare più nei media eh sui social che eh compreso il numero delle persone che ci lasciano che ci lasciano la pelle soprattutto civili all'ottanta per cento si tratta di civili però c'è questa sorta di cortocircuito la guerra ci fa paura ma la guerra è diventata una questione normale io qualcuno l'ha anche accennato oggi voglio essere tento di essere il più breve possibile a me la cosa che lascia interdetto profondamente interdetto che non ho capito quindi probabilmente sarà un limite mio che riporta un po' alla alla discussione e a chi magari ne capisce più di me oggi soprattutto stamattina mattinata soprattutto anche eh tenuto alto il livello del dibattito è questa contraddizione assurda io mi occupo molto di immigrazione chi lo sa eh con le guerre l'aumento delle persone costrette all'immigrazione forzata è aumentato in maniera micidiale eh cosa sono per un paese come l'Italia centocinquantamila persone giunte in un anno nulla rispetto a sessanta milioni in in uno dei paesi più ricchi del pianeta eh dall'Ucraina ne sono arrivati centosettantamila nello stesso periodo e anche lì anzi addirittura hanno creato meno eh meno malessere meno problemi forse perché la pelle bianca crea meno problemi che la pelle diversamente pigmentata eh ma al di là di al di là di questo eh si tratta di non scelte di migrare ma di persone che sono costrette a vivere in condizioni assurde qui nel nostro paese e questo accade mentre in Italia l'Italia è il paese in cui il fenomeno è più acuto l'intero continente europeo anche attraverso l'aver accettato l'essere protagonista come starò detto questa mattina non connivente osservo ma coprotagonista nelle scelte di guerra muore come continente muore per ragioni anagrafiche l'Italia è il paese per cui l'inverno demografico è più più vicino il numero delle persone in età da lavoro e il numero di persone ehm in pensione si sta sempre più avvicinando interi comparti produttivi non potranno più essere coperti e non parlo dei lavori eh peggiori quelli che non vogliamo fare che noi bianchi italiani e maschi soprattutto non vogliamo fare ha ragione Nicoletta a insistere su questa sull'elemento eh intersezionale ma anche quei lavori che le nostre generazioni non riescono più non sono in grado di fare i nativi digitali quelli che entrano nel mondo dell'intelligenza artificiale quelli che pensano al lavoro del futuro beh noi questo continente lo stiamo uccidendo eh attraverso il fatto che eh entrano a fatica e lasciandoci la pelle in mare o sulla rutta belcanica quelli che crepano grazie alle guerre che noi abbiamo prodotto e non entrano se non col contagocce le persone che arrivano per poter costruirsi un futuro nel nostro chiamiamolo nostro paese eh il danno non è soltanto economico e sociale perché eh se si arrivasse ad un continente in grado di garantire questa per me è un'idea di sinistra eh in grado di garantire a chi vuole formarsi qui nel nostro continente nel continente in cui abitiamo una migliore qualità della vita una maggiore complessità di competenze per poi poterne decidere autonomamente cosa farle se riportarle nel proprio paese o se esportarle in un altro paese non diventando merce ma essendo soggetto quindi diventando attore di se stesso beh noi probabilmente avremo un continente in via di sviluppo continente che guarda in avanti invece eh la nostra sarà l'ultima è già l'ultima generazione parlo di di nostra eh pensando ai presenti che vive molto meglio rispetto a ai nostri figli ai nostri nipoti e ai nostri bisnipoti che attraverso l'incrocio assurdo eh inverno demografico guerre come strategia normale di vita il neoliberismo che domina su tutto eh rischia di far naufragare l'idea di eh di Europa e di Occidente e mi collego è una battuta finale oggi il segretario di rifondazione Acerbo ha colto il timore una osservazione a mio avviso molto molto puntuale rispetto al fatto che eh il rischio della perdita dell'universalismo eh il rischio del del finire una sorta di scontro fra barbarie scontro fra fra mostri che creano altri mostri noi in questo mondo ci stiamo già a chi se non ne ha un minimo di consapevolezza può aspettare l'onere non l'onore semplicemente l'onere di cambiare lo stato di cose esistenti grazie 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 Stefano Andrea Amato che fa un straordinario lavoro con una newsletter dell'osservatorio europeo che trovate anche quella su e poi Camilla De Simone di Paese Reale ce ne mancano sei se siamo bravi finiamoci insieme allora intanto vorrei chiedere al presidente Musacchio di allo scadere dell'ultimo minuto di avvisarmi non mi interessa se sono cinque se sono sette l'ultimo minuto mi avvisi poi siccome sono un compagno disciplinato non scapperò dall'indicazione di parlare della newsletter che facciamo in collaborazione tra Transform e l'osservatorio sull'unione europea è pubblicata su Transform è monotematica in ogni numero c'è una prima pagina anzi una pagina e mezzo che descrive le motivazioni gli obiettivi il perché l'abbiamo fatto quindi andatevelo a vedere fine della comunicazione di servizio adesso vorrei parlare invece di un paio di cose che riguardano il tema della nostra assemblea la prima questione è la pace la pace come parola d'ordine non mi convince più il termine pace è un termine usurato nei film americani cosa vuoi? voglio la pace nel mondo basta bisogna ribaltare il paradigma bisogna che la parola d'ordine diventi siamo contro la guerra e la guerra è il problema perché la pace la vogliono tutti e essere contro la guerra che invece è una cosa specifica anzi io preferirei quello che aveva inventato e dato il titolo a un famoso libro nel 1924 Ernest Friedrich e il titolo era guerra alla guerra guardate non è un problema puramente di comunicazione è anche un problema di comunicazione ma non è solo un problema di comunicazione perché fare la guerra alla guerra significa fare la guerra alle motivazioni alle cause della guerra cioè alle sue cause economiche alle sue cause politiche alle sue cause sociali alle sue cause culturali cioè tutte le cose che abbiamo detto in questa giornata o le affrontiamo nel perimetro di una guerra alla guerra oppure noi facciamo le cose da una parte vogliamo la pace dall'altra parliamo contro il capitalismo eccetera e non uniamo mai le cose oppure se le uniamo le uniamo solo a livello come dire così di discussione ma non di strategia politica l'altra questione che voglio invece affrontare è il rapporto tra guerra e democrazia allora abbiamo visto anche dai sondaggi anche quelli di questa mattina eccetera c'è un'opinione pubblica i cittadini europei non vogliono la guerra però c'è un establishment che è dato dai poteri politici dai governi dalla dalla stampa dai media insomma da chi fa opinione che sono tutti per la guerra e allora il problema è ma se i cittadini non vogliono la guerra perché chi comanda riesce invece a imporre questa questa via bellicista è perché c'è una rottura democratica nel processo democratico cioè la volontà dei cittadini non arriva dove deve arrivare e soprattutto non arrivi in Europa nemmeno a livello nazionale ma occupiamoci dell'Europa non arriva l'Europa perché c'è un collo di bottiglia che si chiama intergovernativismo perché come diceva Riccardo Petrella da trent'anni siamo dominati dalla dittatura della governance cioè qualche cosa che comanda senza rispondere a nessuno in sostanza siamo di fronte a un'Europa che ha espropriato la sovranità popolare e però questo ha poi come dire dei riflessi no ha delle conseguenze perché parliamo tanto di crisi della democrazia c'è solo un 50% dei cittadini che va a votare ma perché la gente non va a votare perché un tassista qualunque ve lo può dire ma che vado a votare a fare se poi il mio voto non conta niente ed è vero perché i centri decisionali sono altrove e allora voi vedete è un cortocircuito non si vota perché si pensa che il proprio voto non conti niente perché le decisioni vengono prese altrove in Europa o addirittura a livello globale come effettivamente è e però il fatto che le decisioni si prendano lì fanno sì che la gente non voti allora come si interrompe questo cortocircuito come si ripristina la democrazia in questo continente guardate pensando a queste cose proprio ieri l'altro ieri non mi ricordo i compagni mi hanno mandato poi l'ho ritrovato anche altrove citato da altri una intervista un video con una intervista di un signore che si chiama Fabio De Masi che è il consigliere di Sara ora ho scritto perché è difficile Sara Wagenknecht direi a due minuti te lo dico prima due minuti invece che a un minuto te lo dico a due due minuti nei fatti sette allora questo signore dopo un'analisi corretta del perché appunto le cose che ho detto fino adesso no? le decisioni si prendono dove i cittadini non hanno la possibilità di contare la globalizzazione finanziaria eccetera eccetera beh qual è la risposta che terrificante per me che questo signore da dobbiamo riportare le decisioni a livello dello Stato nazionale perché lo Stato nazionale è quello che fino a qualche tempo fa ha garantito un processo la esplicitazione la esplicazione di un processo democratico cioè una sorta come dire di nostalgia della Germania eh della Germania locomotiva dell'Europa allora vabbè è chiaro è tedesco anche se di origine italiana dal suo nome e in Germania c'è un precedente nobile rispetto a questo che è la sentenza del 1993 della Corte Costituzionale eh tedesca che diceva eh non ci non che a proposito di Maastricht eh diceva no non possiamo essere d'accordo perché eh non c'è uno Stato europeo e non essendoci uno Stato europeo non c'è un demos europeo non esiste un popolo europeo e se non esiste un popolo europeo non ci può essere sovranità popolare a livello europeo la sovranità è solo a livello nazionale allora taglio corto sulle motivazioni come dire culturali di questa impostazione che sono di tipo etnico etnico e antropologico nel senso scientifico del l'etnos e topos e logos e etos ma non abbiamo il tempo di entrare in questa cosa qui però qual è la questione è che ritornare diciamo abbassare ritornare indietro e cercare eh diciamo con un'operazione di eh ricerca dell'identità di sottrarsi alle alle diversità è un processo eh come dire che non porta da nessuna parte ed è perché eh beh perché nemmeno lo Stato nazionale ti mette al riparo da questo allora ti rinchiudi nelle regioni e poi nel comune e poi nella comunità eh religiosa culturale non basta anche lì c'è un problema di democrazia allora ti rinchiudi nella famiglia la famiglia oddio santo la dittatura dei genitori oggi la dittatura dei figli nella coppia ah no matriarcato patriarcato nemmeno lì con te stesso santo di Dio c'è l'iper il superio e c'è l'istinto eh no non va non possiamo andare d'accordo l'istinto che cos'è se non eh la trasposizione a livello individuale del populismo a livello a livello nazionale è la stessa cosa beh allora non ti rimane altro che il suicidio insomma ecco detto questo e finisco in 30 secondi che è la parte più importante Maurizio Maurizio Cerbo ha detto una cosa molto importante non possiamo sfuggire alla questione della rappresentanza perfetto e questo significa strategia elaborazione di contenuti obiettivi politici eccetera da portare con la rappresentanza nei luoghi della decisione politica eh però c'è una precondizione che esistano questi luoghi dove si possa esercitare eh diciamo nel rispetto della sovranità popolare eh le decisioni che vengono che vengono dal basso bene oggi non c'è a livello europeo abbiamo visto che non ci può essere a livello di Stato nazionale perché è una via che non ti porta da nessuna parte e non capisco come tanti compagni anche sono affascinati compagni italiani eh da questa questione perché allora se l'Europa non va ritorniamo allo Stato nazionale no questo non è possibile e in questo mi dispiace che non c'è la compagna come si chiama Cornelia perché la risposta potrebbe venire da loro in quella famosa sentenza della Corte Costituzionale che ho citato prima del 93 a parte diciamo no non si può avere una sovranità nazionale perché non c'è lo Stato lo Stato europeo no dicono perché ancora letteralmente perché ancora non c'è uno Stato federale europeo e allora prendete la palla al balzo facciamolo questo Stato federale europeo allora qui il problema è quello che riguarda anche noi io vedo tanta ritrosia tanta timidezza nel porsi l'obiettivo federalista è vero che il federalismo è stato sputtanato a livello italiano a livello europeo eccetera però non ci sono non vedo delle 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 come dire delle argomentazioni forti dice non vogliamo il Superstato ma il Superstato ce l'abbiamo già ma il Superstato è quello è quello che vuole fare Draghi non vogliamo gli Stati Uniti agli Stati Uniti nessuno vuole fare gli Stati Uniti d'Europa è solo Renzi vuole fare gli Stati Uniti d'Europa forse noi dovremmo pensare a una repubblica federativa cioè nel senso che federa europea però questo ovviamente lo dicevo a pranzo al segretario io non sono iscritto a rifondazione quindi utilizzo questa agorà per dire quello che penso e una volta siccome c'ho l'età contrariamente a quello che diceva la compagna stamattina mi sento di dire anche quello che si dovrebbe fare non quello quello che faccio che quello che faccio l'ho fatto in 60 anni di vita e non serve a nessuno oppure può servire qualcuno e allora per concludere dicevo non mi ricordo più era chiarissimo era chiarissimo grazie di tutto quello che hai fatto e quello che fai adesso Camilla c'è? se c'è Camilla e poi facciamo Pasqualina prima le compagne e poi abbiamo tre maschietti e abbiamo finito Andrea hai fatto 14 minuti mi vedete mi sentite? ecco abbiamo una presenza più giovane di quella che è stata fino adesso Camilla ciao grazie a tutti grazie a voi innanzitutto farò un intervento molto breve sono molto contenta di rivedervi vedo voi due in video ho ascoltato moltissimi interventi molto interessanti quindi diciamo che eh ho poco da aggiungere sul piano dei contenuti eh però appunto io faccio parte di Paese Reale come come molti come alcuni di voi almeno almeno sanno e quindi diciamo brevemente proverò a portarvi un po' quella che è la nostra la nostra prospettiva appunto ci troviamo in un momento storico come è stato già sottolineato veramente difficile problematico veramente urgente per cui personalmente ma anche come a nome di Paese Reale crediamo che sia il momento di in un certo senso trovare delle delle soluzioni anche nuove innovative anche rispetto al passato perché vediamo come già in due tre anni gli ultimi basterebbe prendere proprio gli ultimi due tre anni per vedere come la situazione storica politica su più fronti è mutata talmente repentinamente che a volte si fa fatica proprio a seguire questi processi storici in cui ci troviamo dentro e in cui facciamo anche fatica un po' a orientarci l'attentato di ieri è soltanto uno degli esempi di fronte a cui diciamo proviamo a dare a dare spiegazioni però effettivamente è difficile trovare un po' il nostro il nostro orientamento pertanto noi riteniamo che la sinistra appunto la sinistra radicale che è anche lo spazio politico entro cui noi ci identifichiamo e ci muoviamo devo ovviamente trovare come come anticipato delle soluzioni innovative queste soluzioni ovviamente si diciamo si concretizzano in una scelta anche di codici comunicativi nuovi perché il vero problema oggi è che appunto chi dovrebbe appunto fare politica più attivamente partendo anzi partendo dal voto che è diciamo la manifestazione più più esemplare diciamo dell'attività politica ma chiaramente non si tratta soltanto del voto però appunto chi è più toccato da questa crisi su più fronti sono coloro che poi effettivamente in un certo senso si sottraggono che comunque sfuggono totalmente rispetto all'impegno politico dunque a nostro avviso quello che dovrebbe fare diciamo una forza politica di sinistra diciamo per utilizzare un termine un termine un termine così un po' un po' lato diciamo quello che dovrebbe fare una forza politica di sinistra è cercare di recuperare in un certo senso quella parte di mondo che è rimasta per troppo tempo emarginata io credo che ci sia la volontà di farlo questo ce lo siamo detti anche in più occasioni con alcuni di voi eccetera e però quello che dobbiamo fare oggi a partire da noi stessi a partire lo dico in primis a partire da me è cercare effettivamente di ripensare quale possano essere appunto delle soluzioni reali bisogna davvero mettersi in un certo senso in discussione profondamente per capire come creare anche dei canali di comunicazione che oggi palesemente non ci sono e che mancano quindi secondo me e anche diciamo secondo Paese Reale questo è uno dei problemi più grandi dunque come arrivare a quella parte di mondo come offrire realmente rappresentanza a quella parte di mondo e come dunque provare veramente a cambiare a cambiare le cose qualche diciamo così per aprire un po' il discorso più ai contenuti e più diciamo alla situazione concreta nel nostro Paese siamo di fronte veramente a un momento storico difficile abbiamo appunto la guerra su più fronti c'è sicuramente un problema di indifferenza in un certo senso nei confronti nei confronti di quello che sta accadendo di indifferenza causata anche dal fatto che l'informazione vediamo che è totalmente totalmente no però in gran parte manipolato o comunque parziale per esempio ieri leggevo un articolo della BBC che appunto riportava il fatto che questo faccio un esempio per dare un po' la misura riportava il fatto che la Russia e la Cina si fossero appunto espresse contro il provvedimento per il cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti ecco quell'articolo non menzionava per nulla il fatto che la motivazione diciamo per cui la Russia e la Cina si erano opposte a questo cessate il fuoco era che appunto avrebbe autorizzato Israele a invadere la fa quindi diciamo questo per 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 capire come diciamo un 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 mezzo di informazione insomma una piattaforma così importante come come la BBC restituisce un dato totalmente parziale perché mancava effettivamente la motivazione era semplicemente quasi una notizia appunto da da Facebook un titolo che non che non che non diceva nulla questo mi ha fatto riflettere e mi ha fatto pensare ma appunto se non se non possiamo neppure avere diciamo la certezza la completezza se neppure i mezzi di informazione sono in grado di restituire un po' di quella complessità delle cose del presente allora a chi effettivamente dobbiamo dobbiamo rivolgerci c'è c'è una c'è una c'è una perdia di senso del dell'orientamento che appunto è causato anche da questo genere di cose una persona che non è politicizzata che non fa politica ma anche che non ha il tempo di andare lì a informarsi oltre la BBC apre un articolo legge e chiaramente avrà un'opinione sulle cose appunto prodotta da quello da quello che effettivamente ha letto quindi considerando appunto anche questa situazione qui credo che il ruolo per chiudere il ruolo diciamo che deve essere il ruolo di chi fa politica è quello di provare anche a offrire in un certo senso un orientamento una guida e questo è un compito estremamente difficile però appunto richiede tanta formazione tanto studio e in un certo senso richiede anche una capacità torno appunto al discorso iniziale dei codici comunicativi della comunicazione di arrivare a quelle persone e offrire loro una rappresentazione un po' diversa che provi a rimettere insieme dei pezzi che oggi sono totalmente che appaiono totalmente disgregati che provi a rimettere i pezzi insieme e che provi dunque a fornire anche una realtà una rappresentazione del mondo e anche una visione del mondo per utilizzare un termine diciamo un po' più filosofico alternativa davvero e con questo chiudo chiudo qui e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire grazie 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 un po' dirò qualcosa anch'io su questa cosa Pasqualina Napolitano CRS ma collabora spesso trasform già parlamentare europea di lungo corso c'hai tre minuti in meno perché tuo marito non ha presentato di più ma io vi voglio portare un saluto anche perché mi dispiace che questa mattina stamattina non sono potuta essere con voi perché avevamo una storica manifestazione di corteo e piazza ad Anzio a Nettuno sulla Palestina evento importantissimo perché smuovere le cose in queste realtà non è facilissimo è stata una bellissima esperienza anche perché siamo riusciti a mettere insieme un po' di vecchietti come me e di gente appunto che ha fatto politica insieme ad alcuni giovani ma soprattutto a giovani prevalentemente tunisini marocchini che vivono e lavorano nella nostra zona e la cosa bellissima è stata la passione che ci hanno messo e quindi abbiamo ricominciato a capo a raccogliere soldi fa lo striscione pigliare lenzuolo fare cartelli fare fagottini che simulavano i bambini morti e questo è stata l'esperienza questa mattina tanto per fare anche perché secondo me bisogna cercare di trasformare questo sentimento dell'opinione pubblica europea in azioni politiche anche per far capire a quelli che ci governano che su questo terreno rischiano di perdere le elezioni o comunque di rimetterci in termini di consenso perché immagino io sono anche per immettere in discussioni elementi di preoccupazione perché alcuni paesi europei hanno già cambiato il sistema di arruolamento negli eserciti noi abbiamo ritenuto il fatto che la leva generalizzata fosse superata mi ricordo a proposito di ehm di femminismo eh che in quel periodo vi ricordate quando ci fu Spadolini che parlava della leva alle donne tanto per rendere pari con gli uomini con Lidia Menapace Chiara Ingrao facemmo un bellissimo convegno di cui c'ho ancora la pubblicazione ho trovata alla Casa delle Donne dove eh che si chiamava né in divisa né in difese e ipotizzava l'idea che per tutti ragazzi e ragazze eh finito diciamo in una certa fascia di età che poteva corrisponde con la migliorità loro potessero scegliere di dare un contributo alla patria così come dice la Costituzione che ciascuno deve dare un contributo per la difesa della patria ma la difesa della patria può essere eh l'intervento idrogeologico può essere l'intervento sociale può essere mille cose presa una parte che poteva scegliere o voleva di fare un'esperienza di formazione militare e questa proposta si è realizzata e poi pensavamo che le università dovessero essere il punto di organizzazione di tutto questo anche per le persone gli studenti i ragazzi che a 18 anni non avrebbero eh fatto l'università però diventavano appunto riferimento per la loro formazione spesso io credo che un po' di queste idee dovremmo poterle pure riprendere prima che Crosetto ci rimette la leva obbligatoria così come già sta annunciando e come in Danimarca hanno già fatto adesso la cosa appunto secondo me che preoccupa come quest'idea della guerra con tutto quello che si porta dietro sta entrando proprio nella possibilità nella vita nell'immaginario ma questo è pazzesco secondo me noi dobbiamo mettere paura alla gente cioè può essere solo la destra piglia i voti sulla paura e non dobbiamo far capire che qui non si sta giocando si sta andando verso un precipizio grazie all'Ignavia alla corta visione di tutti quelli che hanno in mano le sorti di questa Europa la quale ha tutto da perdere in una guerra che si preannuncia su questo nostro territorio comunque sia sia visto da sud sia visto da est l'epicentro questa volta sta qui salvo quello che succederà nel Pacifico che appunto si annuncia come altro quadrante di regolazione di conte mondiale per cui stanno stanno lavorando contro i nostri interessi i nostri i nostri figli dei generazioni future quando il negoziato era possibile adesso nessuno ricorda che il mese dopo che Putin è entrato nel territorio i turchi sono riusciti insieme a pure Israele a mettersi seduti e a mettere seduti tutti i negoziatori e fare un passo dopodiché tutto questo è stato disfatto e c'è stato un episodio ancora molto scuro di uno dei negoziatori ucraini che è stato fatto fuori di tutto questo bisogna pure dare conto e le opinioni pubbliche questo è stato completamente cancellato naturalmente non difendo Putin il quale nel suo discorso subito dopo l'invasione vi ricordate che c'era l'anniversario della grande vittoria e che Negri pensava che lì lui annunciasse qualche atto di distensione e invece quello fece un discorso contro Lenin contro Khrushchev riprendendo lo zar l'ortodossia e lo zarismo e naturalmente in quest'impasto lui ha costruito una narrazione che non c'ha niente a che fare con quella roba lì infatti accusò sia Khrushchev che Lenin di aver dato le autonomie a uno aver donato la Crimea e l'altro aver dato l'indipendenza e l'autonomia all'Ucraina quindi a letto di questo però il mostro è stato costruito via via lui appunto ha fatto anche ci ha messo del suo per esserlo ma non è è possibile il negoziato è possibile ancora i termini ci sono basta che l'Europa la smetta di portare sempre più avanti le provocazioni compresa l'ultima storia di usare i depositi gli interessi dei depositi russi che abbiamo nelle casse delle nostre banche perché gli europei si devono ricordare che se creiamo un precedente di questo tipo questo precedente poi dopo forse si può ritorcere contro chi lo fa quindi insomma siamo in questo ambito l'ultima cosa che voglio dire è il cardinare Zutti perché ormai noi come riferimenti diciamo abbiamo questi ha fatto una domanda semplice semplice ma l'Europa ripudia la guerra no perché l'Europa non ha una costituzione non quindi non si capisce questo esercito questa difesa che vogliono fare dove la appendiamo in una politica dove in quel caso nemmeno il Parlamento europeo ha nessun potere perché ha solo il potere di essere informato punto quindi attenzione perché io metto in guarda i nostri giuristi costituzionalisti eccetera che si stanno molto adoperando per studiare il pericolo delle riforme meloni di guardare le riforme meloni agganciate alla dimensione europea anche perché non è un caso che la signora meloni si trova benissimo in questa Europa dove lei negozia si muove ordina la commissione perché ormai la commissione è diventata il segretariato dei governi per cui si porta van der Leyen a Tunisi dove vuole lei e quindi io farei molta attenzione a questo legame per cui nessuna cessione di separatità se a queste condizioni se non si risponde alle domande l'Europa ripudia la guerra grazie Pasqualina Giancarlo Scotoni e Roberto Rosso mi risultano gli ultimi due interventi poi ci per questo per questo parli prima te Roberto parlo prima io sei qua e sono qua approfitto della posizione di forza buonasera a tutti sono proprio felice di essere ancora ancora qui bravo grazie sempre ottimista no di essere ancora qui di poter parlare di questa esperienza che va avanti e sul sito c'è molto da dire volevo solo citare il fatto che oggi non c'è non può esserci Maria Pia Calemme che non solo dà un contributo fattivo molto importante ogni settimana e che ha la testa per farlo mentre io ormai comincio a non averla più ma che si occupa anche molto dei temi dei diritti del carcere che nella nostra diciamo offerta di informazione rappresentano comunque dei temi importanti e per cui volevo salutarla mandarle un saluto quello che invece volevo dire a voi per intrattenervi tre minuti è il fatto che mi è ricapitato in mano un vecchio libro di quando ero ragazzo che si chiama storia della stupidità militare e che è stato scritto da credo da un saggista americano durante la guerra al Vietnam per denunciare le incongruenze la stupidità della guerra al Vietnam e facendo un'operazione che forse scientificamente non è molto corretta non lo so comincia da lontano e parla di Crasso poi parla degli svedesi contro i russi contro Pietro il Grande poi si avvicina e parla di una cosa un pochino più moderna ma quello che a me da non esperto da non storico emerge moltissimo da questa lettura è che non si capisce su quale criterio l'autore abbia scelto le guerre stupide pien fuori che tutte le guerre sono stupide e ovviamente per noi la parola stupido in questo contesto è debole no? bisognerebbe dire un'altra cosa bisognerebbe dire che le guerre sono un orrore ed è lo stesso orrore che io credo tutti noi viviamo non solo sulla guerra ma sul destino del pianeta sulle relazioni coloniali no? che vengono imposte agli esseri umani esseri umani come noi siamo forse ma io non credo che siamo pochi a ritenere che l'uguaglianza tra gli esseri umani sia come dire la base della realtà il principio di realtà il principio della vita è stata richiamata oggi questa questo concetto di vita e credo che gli interventi più vitali sono sicuramente quelli che vengono dalla riflessione femminista possiamo dire così storicamente femminista che sta partendo dalle donne non è esclusiva ovviamente io penso del genere femminile certe volte ho difficoltà a muovermi in concetti troppo astrati anche se riconosco che andrebbero usati basta non volevo dire altro volevo dire che sono certo che la partecipazione nostra e di transform in termini organizzativi a questa lista contro la guerra sia l'unica cosa che era ragionevolmente possibile fare cioè non farla sarebbe stato secondo me veramente insopportabile chi non l'ha capito probabilmente soffre di un bisogno di come dire di quadratura del cerchio che non è data che è estremistica che è sbagliata per cui politicamente va rispettato per cui diamo il nostro contributo anche a questa raccolta di firme anche a questa grazie a Giancarlo anche per tutto quello che fai oramai da anni il mio ringraziamento la sua era una minaccia Roberto Rosso l'ultimo intervento Roberto grazie come non ti sei mosso da colleferro c'hai cinque minuti infatti mi scuso per questa mia assenza che mi ha privato della vostra compagnia e per cui ancora ci vediamo tramite schermo no il mio intervento riprendendo quello che di cui spesso scrivo su Transform quello se vogliamo è stata citata l'intelligenza artificiale in realtà si parla di quello che è l'artificializzazione della vita e cioè il fatto che se quello che è lo sviluppo di quella che è chiamata intelligenza artificiale che è un sistema molto complesso di tecnologie le ultime quelle che sono venute all'onore dell'economia di GPT sono un'innovazione tecnologica che più o meno risale a pochi anni fa nel 2017 e indubbiamente nei prossimi anni vedremo qualcosa di assolutamente straordinario o mostruoso a seconda di come lo si voglia vedere io credo che continui più il contesto il contesto in cui si afferma questa tecnologia è ovviamente i principi di funzionamento del capitalismo e va da sé voglio dire le sette big tech quindi le sette grandi aziende che dominano questo mercato sono quelle che hanno una capitalizzazione di borsa che viaggia attorno ai 2 miliardi ai 2 mila miliardi di dollari per capirsi però quella è una cosa di breve periodo il problema è cosa accadrà nel lungo periodo nel medio e lungo periodo la cosa fondamentale però è il contesto in cui questa tecnologia secondo logica capitalistica si muove ed è quella di crisi radicale della vita quindi gli interventi che hanno fatto riferimento alla vita e in tutte le sue accezioni credo siano fondamentali e cioè che da questo punto di vista le tecnologie digitali rivoluzionano questo si sa tutti i processi di riproduzione dei rapporti sociali l'orario di lavoro eccetera ma sono ondate che negli ultimi decenni hanno già prodotto straordinarie modifiche della composizione sociale senza che questo voglio dire abbia dato come dire sia stato usato in modo da ridurre il tempo di lavoro in termini generali non per alcune ridotte categorie di lavoratori quindi il problema dell'artificializzazione della vita implica che dentro la crisi climatica dentro la rottura degli ecosistemi e riduzioni della biodiversità i processi di riproduzione sono sempre di più mediati dalla dimensione tecnologica e questo penetrare sempre di più della tecnologia ciò avviene dal neolitico ma evidentemente siamo in presenza di qualcosa di molto più esteso questi processi penetrano molto di più e questa cosa noi la vediamo ovviamente nell'impazzimento se vogliamo di quella che sono i processi di riproduzione si è parlato dell'inverno demografico in Italia il problema da questo punto di vista non è che siamo 8 miliardi anche al mondo abbiamo superato gli 8 miliardi ma appunto il fatto che i processi di riproduzione delle popolazioni sono estremamente differenziati e sono il frutto di quella che è sostanzialmente la logica di concorrenza e non di collaborazione che presiede alla riproduzione della formazione sociale globale quindi noi dobbiamo leggere il problema dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali di cui si parla tutti i giorni e tutti i minuti su tutti i media quindi è inutile fare un qualsiasi riassunto dentro questa trasformazione radicale dei processi di vita quindi chiaramente per come ne parlava Petrella per come se ne parla quando si parla di intersezionalità noi abbiamo per come se ne parla per esempio dentro il numero dell'osservatorio sull'agricoltura in Europa eccetera noi dobbiamo ragionare in questo momento sul rapporto tecnologia vita in tutti i suoi aspetti da questo punto di vista se noi non facciamo questo tipo di ragionamento io credo che anche il nostro ragionamento in termini di politica rischi di viaggiare in superficie e di perdere sostanzialmente in profondità in tutto questo la guerra evidentemente al di là come dire della retorica occidentale è diventato un processo di regolazione delle relazioni e di una riproduzione sociale complessiva fondata sulla competizione quindi anche la guerra in realtà diventa parte della riproduzione questa è la cosa straordinaria lo è sempre stato ma lo è particolarmente oggi in termini di attualità e di potenzialità e fa parte da questo punto di vista la tecnologia è sempre di più un qualcosa che sostanzialmente serve a sopravvivere in un mondo in cui come dire le basi stesse della vita sono messe sono messe in crisi c'è il famoso discorso che ogni anno è sempre più vicina alla data in cui consumiamo tutte le risorse prodotte in un anno oppure come dire l'accaparramento il land grabbing l'accaparramento della terra perché nessuna nazione ha sufficientemente terra per sostenere la spropria popolazione quindi ripeto e su questo chiudo io credo che noi dobbiamo ragionare della tecnologia in particolare nel nesso tra tecnologie digitali tecnologie della vita tecnologie dei materiali sul rapporto in relazione alla crisi complessiva di riproduzione della vita intesa come vita dell'umanità vita sociale ricambio organico e vita in generale credo che su questo noi dovremmo riflettere e qui la finisco grazie Roberto l'ultimo intervento io adesso chiudiamo insieme diciamo no meno insomma come capita in un'istituzione come questa uno gli verrebbe voglia di ricominciare ma non lo facciamo però semplicemente mi pare che abbiamo una serie di cose che potremmo dovremmo continuare ad approfondire penso a questo tema di guerra la guerra io la prendo come la diceva Andrea perché significa precisamente definire a che punto siamo nelle condizioni di questo nostro pianeta e per questo ad esempio il rapporto tra suprematismo spiace molto che Alessandro Scassellati che su questo ci ha aiutato moltissimo oggi poi si è dovuto andare via e lo ringrazio di tutto il lavoro che fa universalismo ma anche vita e tecnologie insomma sono cose che vengono nominate ma che poi richiedono lavoro e capacità di comprensione naturalmente l'Europa che è il nostro punto fondamentale tra l'Europa delle nazioni come veniva ben definita alla fine del posqualiano napoletano e per rimanere in famiglia se non si arrabbiano l'Europa democratica federalista di cui parlava Andrea insomma perché un conto è nominare le due cose e poi vedere che cosa c'è in mezzo che cosa succede ha parlato Camilla ci tengo molto a rapporto con loro si chiamano paese reale insomma alludono a questa condizione materiale delle persone e qui abbiamo anche discusso un po' ad esempio dell'esigenza che ci sia un blocco sociale ma che ci sia anche una narrazione che è stata molto evocata e che ci sia una capacità di parlare ai milioni ecco diciamo nell'epoca contemporanea non è facile capire come ci si muove insomma per stare in famiglia mia tra fare praticamente tutti i giorni altramente tutti i giorni stare in rete come faccio io insomma ecco e però sono che cosa è un Gramsci della contemporaneità cioè che cosa significa un blocco sociale che sia capace di cimentarsi con una battaglia delle idee che non riguarda le elite ma che riguarda i milioni di consumatori della comunicazione e abbiamo visto che poi la manipolazione della comunicazione è continua io mi sono seguito tutta la storia del Consiglio Europeo l'altro giorno era anche divertente nella sua tragicità perché Michel senza firmare ha scritto un comunicato che ha impestato di sé l'insieme dei giornali di tutto il mondo dicendo riprendendo Cicerone sostanzialmente perché quella era la citazione politica quella filosofica più lontana del parabellum e poi Cicerone era proprio per fargliela fare la guerra Antonio contro Ottaviano c'è anche riuscito quindi un mix tra guerra civile guerra imperiale e quant'altro credo che abbia passato un brutto quarto d'ora dentro il Consiglio Europeo perché l'hanno ricondotto al burocratese del Consiglio ma la sostanza è quella che è stata detta da Fabio Alpey penso al tema delle intersezioni che appunto è una parola complicata a dirsi quindi tante cose per cui ci abbiamo molto da lavorare da questo punto di vista facciamo tante cose ringrazio tutti quelli che le fanno abbiamo visto Laboratorio Sud Osservatorio Europa tutti quelli che hanno collaborato non ha potuto parlare Tonia Toffanin che è lì collegata che partecipa a questi progetti sulla il lavoro la coalizione del lavoro abbiamo fatto già due con Transforo Europeo uno è pubblico l'altro è tenuto segreto dal nostro direttore perché sarà diciamo un momento sconvolgente dei rapporti di classe nel mondo però prima o poi riusciremo a renderlo pubblico e come abbiamo fatto per esempio un lavoro sulla comunicazione molto efficace sempre grazie Alberto su Media Alliance che ci ha portato naturalmente a collaborare con l'EFT e con molti altri giornali in Europa e così il lavoro è stato richiamato anche da Piero Bevilacqua per questo grazie veramente grazie a tutti un grazie speciale a Maria Pia che non c'è qui ma senza la quale Giancarlo non farebbe nulla di quello che fa perché normalmente il mercoledì scherzo la coppia collaudata sul campo Giancarlo e Scotoni e Maria Pia Calemme è straordinaria anche nel modo di interruire nel senso che Giancarlo giustamente è un po' più nervoso e quindi se devi fare una correzione di una virgola all'ultimo istante del tredicesimo paragrafo del trentasettesimo libro che ci ha mandato qualcuno fuori tempo bisogna passare per Maria Pia perché altrimenti la situazione diventa nervosa grazie Maria Pia grazie veramente di tutto ora tutta questa baracca è retta da un direttivo che io noi proporre io proporrei di confermare per adesso poi faccio una proposta aggiuntiva che era fatto se non ci sbagliamo di Nicoletta Pirotta Elena Mazzoni Franco Ferrari detto anche Penna Verde per chi viene dal PC sa che cosa significa perché il nostro correttore politico ufficiale l'equivalente di Togliatti sostanzialmente e Riccardo Rifici per la parte rosso verde e questo lo proporremmo di confermare come proporremmo di approvare il lavoro fatto da tutti i punti di vista dall'associazione non so che cavolo le cose formali dovresti fare ma le faccio io adesso e prima un grazie eh a Roberto Morea senza il quale tutta questa roba non esisterebbe senza il quale io oggi stavo a Pianzano in Santa Pace perché non ne posso veramente più ogni volta la padrinissima dice ma perché lo fai ti piace? no lo faccio per Morea e no compagno straordinario che ha retto tutta questa fase in maniera incredibile e che io propongo ben confermato Presidente a vita senza così non lo dobbiamo fare da cavo e così via a proposito di a vita ciascuno di noi c'ha il coccodrillo pronto per cui se dovesse succedere un decesso incredibile no no era una vecchia tradizione del PC bellissimo non l'abbiamo deciso ognuno si è scritto il suo e questo come proposta innovativa e e che vorrei proporre ma bisogna lavorarci e costruire una sorta di comitato scientifico in più ma che sia scientifico nel senso comunista del termine cioè che leghi teorie e prassi che renda stabile almeno tre volte all'anno non lo so in rapporto con gli altri perché è vero che tutti noi siamo un po' mona di la descrizione che ha fatto che ha fatto Andrea alla fine di quello che è stata ma mi è presa una cosa terribile non so se mi riprenderò e invece noi dovremmo provare questa cosa federativa tra di noi a rete almeno questo però posso dire che Transfone è una di quelle che ci prova più da tutti cioè siamo quelli che chiamano che chiedono che fanno oggi sono molto contento c'era Paese Reale c'era Numeri Pari c'erano tante altre cose CRS Left eccetera eccetera vorremmo provare a ricostruire diciamo una piccola relazione permanente e quindi proveremo a tutti di riuscire a vederci almeno in rete una volta ogni tanto la sinistra europea direi anche non te l'ho detto ma mi prendo la responsabilità cioè Elena Eleonora e Anna mi pare che sono così anche la quota Piero e così via cioè ricostruire una cosa non tante riunioni quattro all'anno però che magari anche tematiche a che punto siamo insomma in modo che diciamo che abbiamo un piccolo passo in più ho finito metto in approvazione Morea così me la cavo no scherzo applauso grazie Roberto mo dici qualcosa da te no io ringrazio chiaramente tutti quanti permettetemi di ringraziare in particolare Roberto Musacchio perché il lavoro la capacità politica ha anche una sua valenza e lo ringrazio non non solo da amico ma da da compagno e credo che questo sia un valore in più che Transform è riuscito a costruire in questi anni mantenere c'era anche Patrizia Sentinelli ringrazio Patrizia Sentinelli perché senza Musacchio non si può nominare Patrizia Sentinelli no no ma sarebbe difficile per me escludere qualcuno di voi che partecipa alla vita quotidiana di di Transform Italia sono convinto che eh questo spazio ehm sia utile e quindi eh è stato capace negli anni eh di mantenere questa fiammella europea accesa anche qui in Italia e penso che il lavoro che ci aspetta ancora più difficile negli anni prossimi e quindi avere la capacità di essere includenti e avere la capacità di cooperare e partecipare anche a un lavoro anche più ampio collettivamente è sicuramente indispensabile per superare eh le intemperie che ci che ci aspettano non la faccio molto lunga e vi ringrazio eh vi saluto e vi ringrazio come direbbe qualcuno grazie buona giornata a tutti ci vediamo prestissimo innanzitutto sul sito grazie grazie